Siamo qui col Presidente Roberto Pasini di Avis Provinciale Parma. Siamo qui per la sessantesima Assemblea Provinciale, la riunione che annualmente porta i delegati delle 47 sedi sul territorio a discutere e approvare il bilancio provinciale, le linee di azione del Consiglio Provinciale. Le sezioni che sono qui oggi sono, come dicevo, 47, di cui 34 come punti di raccolta attivi. Ci sono sezioni che per le procedure di accreditamento negli anni passati non hanno più il punto di raccolta attivo e che sono invece uno dei nodi centrali dell'agire dell'associazione. Noi vogliamo, vorremmo che anche in queste sedi continuasse la vita associativa, la vita sociale, perché è importante. Le sedi Avis sono sempre state nel tessuto sociale dei comuni un punto di riferimento. Non avere più la seduta di prelievo non vuol dire non essere più questo, anzi vuol dire fare un lavoro ancora più forte sul tessuto sociale per ribadire la mission che abbiamo, portare la gente a donare il sangue. Un primo punto che discuteremo oggi? Il primo punto sarà, lo si vedrà anche con le slide e con gli interventi, la centralità del donatore. In questi ultimi anni abbiamo perso questa centralità, abbiamo perso la cura forse del donatore, nel fidelizzarlo, nel tenerlo attaccato ai valori dell'associazione. Forse si è pensato troppo ai numeri della donazione, poco alle persone che donavano. Noi vorremmo rimettere al centro il donatore, che vuol dire anche rimettere al centro il ricevente, cioè chi ha bisogno del sangue, e che vuol dire rimettere al centro la solidarietà associativa. Una pratica abbastanza nuova, ma ormai forse consolidata, la prenotazione, ce ne vuol parlare? La prenotazione è importante in questo elemento, un elemento tecnico di quello che vedremo oggi. Ci saranno elementi associativi, che sono la centralità del donatore, la solidarietà associativa tra noi, tra dirigenti e associazioni. La prenotazione diventa, e lo vedremo anche qui, sempre nelle slide che faremo vedere, diventa fondamentale per gestire questa centralità del donatore, per fare in modo che le sedute di prelievo siano efficienti, siano rapide, siano soddisfacenti per il donatore e soddisfacenti anche in termini di sacche raccolte, che è il nostro compito. Siamo inseriti in un sistema sangue nazionale, regionale, nazionale, abbiamo il dovere di contribuire all'autosufficienza.